E da quest'opera ascoltiamo l'ultima aria del nostro incontro, tratta sempre appunto dalla Caravan du Kerr, è Al-Mahid. Al-Mahid è la moglie del sultano che non vuole la rivale e quindi è un'aria che dovrebbe connotare, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del sultano che non vuole la rivale e quindi è un'aria che dovrebbe connotare, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del nostro incontro, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del nostro incontro, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del nostro incontro, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del nostro incontro, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del nostro incontro, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del nostro incontro, anche in questo caso, un personaggio turco. Al-Mahid è la moglie del nostro incontro. 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 Al-Mahid è la moglie del nostro incontro.